Chi sono i personaggi delle monete euro italiane? Numero 5, 10 centesimi. Raffigura la venere dipinta da Sandro Botticelli, opera icona del rinascimento italiano, la perfetta bellezza femminile nell'arte. Numero 4, 20 centesimi. Rappresenta una celebre scultura di Umberto Boccioni, di nome Le forme uniche della continuità nello spazio, che raffigura simbolicamente ed artisticamente il movimento e la fluidità. Se si osserva lateralmente la scultura si può riconoscere una figura umana in cammino, che si proietta energicamente in avanti. Numero 3, 50 centesimi. È l'imperatore romano Marco Aurelio, che campeggia in piazza del Campidoglio. Fu adottato da piccolo dal suo futuro suocero e zio acquisito Antonino Pio, che lo nominò erede al trono imperiale. Ancora tuttora è reputato come un grande governante ed un personaggio fondamentale per la storia d'Europa. Numero 2, 1 euro. L'uomo dalle quattro braccia e gambe. È il famosissimo uomo vitroviano disegnato da Leonardo da Vinci. Rappresenta le proporzioni ideali del corpo umano e di come possano essere armoniosamente disegnati in un perfetto cerchio, che rappresenta la perfezione divina e del quadrato che simboleggia la terra. Numero 1, 2 euro. Il volto di Dante Alighieri, grande poeta, scrittore e politico italiano. È considerato il padre della lingua italiana e è divenuto famoso grazie alla Divina Commedia, la più grande opera scritta in lingua italiana ed uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale.